Ancora un pomeriggio di tensione a Sottomarina, nella zona di confine con la fermata delle corriere di Piazzaro Europa. Diversi tafferugli sono scoppiati tra minori, apparentemente di origine nordafricana, che si sono picchiati. Testimoni riferiscono di aver visto in particolare uno dei giovani utilizzare più volte una mazza per colpire i suoi coetanei, mentre un altro avrebbe agitato un coltello. La situazione ha richiesto l'intervento dell'ambulanza e dei carabinieri, che hanno identificato alcuni giovani, ma gli sviluppi restano sconosciuti. Purtroppo molti di questi ragazzi, che arrivano da fuori Chioggia e vogliono passare una giornata in spiaggia, al mare, però puntualmente si verificano problemi quando vanno a riprendere la corriera, soprattutto in assenza di una presenza massiccia delle forze dell'ordine. Ci sono dei forti dubbi sull'efficacia delle telecamere installate in Piazzaro Europa, enfatizzate e con grande enfasi dal sindaco Ormelao. Sembra invece che queste telecamere non siano mai entrate in funzione. Confidiamo che il sindaco, tanto attivo sui social, possa pubblicare qualche ripresa di queste eccezionali telecamere che la sua amministrazione ha installato. Nel nostro sportello offriamo servizi luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da Efe Energia ci trovate tutti i giorni da lunedì al venerdì 8.30-12.30, 14.30-18.30 in Viali Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.